Ciao amici di My Football Jersey, oggi vedremo insieme la comparazione tra la seconda maglia del Manchester United in edizione player e l'edizione fan. Come vedete sono abbastanza simili, da lontano non si vedono tanto le differenze, vedremo poi nel proseguo del video quali sono i dettagli che le contraddistinguono. Vi ricordo di guardare fino alla fine per vedere anche la vestibilità. Ciao! Una delle principali differenze tra le due maglie è il fatto che nella versione player tutti gli stemmi, le strikes, sono termosaldate, mentre nella versione fan queste sono uccite. Un'altra differenza che si nota molto in questa maglia è la trama. Nella versione player è molto più brillante, devo dire anche molto più bella che nella versione fan. Un'altra piccola differenza, e qui probabilmente dipende anche da come sono state realizzate le maglie, è sul motivo del colletto e dei polsini, che è leggermente diverso. Come ho già avuto modo di dire, questa è sicuramente una delle mie maglie preferite per la stagione 22-23. Trovate peraltro in alto la recensione. Questa che vedete è una versione player e quindi è una taglia large, leggermente più grande, perché è più attillata. La versione player è dedicata al fisico degli atleti, quindi deve essere un pochino più sfiancata. Questa invece che vedete è la versione fan, quella un po' più economica, dedicata ai tifosi che vanno allo stadio. Questa che vedete, a differenza della player, è una taglia M, e a me va meglio, diciamo così, basta una M. Prima di lasciarvi vi prego di mettere un like al video e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Per oggi è tutto, alla prossima!